carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita oggi grazie a dio è 18 gennaio e leggiamo due versi che si trovano uno nel vangelo di giovanni al capitolo 1 al verso 38 dove è scritto che gesù voltate si osservando che lo seguivano domandò loro che cercate ed essi gli dissero rabbì che tradotto vuol dire maestro dove abiti e poi in giacomo al capitolo 4 al verso 8 dove è scritto avvicinatevi a dio ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi di animo la scena probabilmente è nota ci sono andrea e giovanni che avevano appena deciso di seguire gesù lo conoscevano poco avevano però sentito dire da parte del battista che era l'agnello di dio e in altre parole in messia che era stato promesso da parte dei profeti e così cominciano ad andare dietro a gesù e gesù si volta li vede li osserva e gli chiede che cosa cercate e questa domanda è una domanda che probabilmente stamattina viene rivolta a tutti quanti noi cosa cerchiamo mi riferisco a quello che noi vorremmo dalla fede dall'avere cristo nella nostra vita dal seguire il signore sì perché alcuni seguono il signore soltanto per interessi terreni sperano cioè di trovare in dio qualcuno che quando si trovano nei guagli risolve le situazioni difficili sperano di trovare nel signore qualcuno che quando sono ammalati li guarisce e via dicendo e certo il signore anche questo il signore è quello che guarisce che libera che battezza con lo spirito santo il signore è colui che quando lo invochiamo stende la sua mano e opera anche dei miracoli miracoli straordinari delle volte quello che è l'uomo è impossibile a dio invece facile è possibile ma noi non dobbiamo cercare il signore innanzitutto per questo noi dobbiamo cercare il signore e cercare nel signore innanzitutto la salvezza la vita eterna perché se abbiamo sperato in dio per questa vita noi siamo dice la scrittura i più miserabili di questo mondo noi speriamo nel signore innanzitutto per l'eternità in vista dell'eternità e poi quando siamo nel bisogno ci rivolgiamo a lui e sappiamo che egli saprà operare del bene per la nostra vita e allora cosa cerchi tu in cristo cosa stai cercando nel seguire il signore stai cercando il benessere di questa terra stai cercando innanzitutto la salvezza dell'anima e io spero che tutti quanti noi in prima battuta possiamo rispondere io sto cercando il signore perché desidero vivere in eterno nella sua presenza sto cercando in altre parole la faccia di dio e anche il suo braccio e non viceversa perché so che la cosa più importante quella duratura è l'anima e il suo benessere è la cosa prioritaria alla domanda di gesù i discepoli risposero maestro dove abiti sì perché essi cercavano la sua presenza e dio ci aiuti su questa terra a ricercare la presenza di dio nella nostra vita è quella che fa la differenza è quello che veramente trasforma il nostro cuore è quello che ci rende veramente appagati felici e gioiosi la presenza di dio ma se nell'antico testamento disse signore se tu non vieni con noi noi non ci muoveremo perché cos'è che distinguerà il tuo popolo dagli altri popoli se non la tua presenza e questo sentimento possa veramente riempire il cuore di tutti quanti noi cerchiamo la presenza di dio nella nostra vita prima di tutto e sopra ogni altra cosa condividiamo questa presenza con i fratelli e le sorelle quando si celebrano i culti nelle comunità locali dove siamo soliti frequentare perché è bello stare da soli nella presenza di dio la cameretta segreta ma è bello stare insieme agli altri fratelli e le sorelle nella presenza del signore quanto è bello e quanto è caro quando i fratelli dimorano insieme e epistola agli ebrei non abbandonate le vostre comune adunanze e questa presenza del signore che era quello che i discepoli stavano ricercando è qualcosa che gesù vuole manifestare tant'è che dinanzi alle parole dei discepoli e gli disse venite e vedrete lo troviamo al verso seguente di quello che abbiamo letto e il signore ci possa fare grazie di entrare nella presenza di dio per contemplare la bellezza del signore per poter contemplare la sua gloria per poter ricevere benedizioni dalla sua mano misericordiosa per poter ricevere la salvezza innanzitutto ma poi anche la pienezza dello spirito santo e ogni altra cosa che in cristo noi abbiamo ricevuto concludo ricordando l'ultimo verso che abbiamo letto va a dire giacomo 4 8 avvicinatevi a dio ed egli si avvicinerà a voi in altre parole quando noi decidiamo di accostarci a lui di andare nella sua presenza noi non troviamo un dio riottoso che in qualche modo ci ostacola ma troviamo un dio che anzi si avvicina verso di noi perché quello è il suo desiderio che ogni uomo possa avere comunione con lui e allora avviciniamoci ogni giorno di più al signore stiamo nella sua presenza rallecriamoci nella sua presenza ma naturalmente prima di farlo ricordiamoci di purificare i nostri cuori di purificare le nostre mani come abbiamo letto e questo è possibile tramite il sangue dell'agnello questo è quello che ci purifica e ci netta e ci lava esso è quello che ci permette di poter ricevere perdono ecco perché andiamo a dio nel nome di gesù e non nel nome di qualche altro uomo donna di dio c'è un solo nome che ci è stato dato affinché noi ci possiamo accostare dio c'è un solo mediatore tra di agli uomini e questo è cristo gesù perciò accostiamoci accostiamoci ogni giorno nel nome del signore andiamo e ricerchiamo la sua presenza e facciamo del signore la ragione della nostra vita vivremo una vita bella una vita felice una vita piena e poi un giorno quando saremo nella presenza del signore ancora più glorioso sarà l'incontro perché lo vedremo faccia a faccia come egli è con quel corpo nuovo glorificato che egli ci darà al suo ritorno quando risorgeremo se siamo morti o saremo trasformati in un batter d'occhio se staremo viventi che il signore ci aiuti ogni giorno a stare nella sua presenza ed accostarci a lui pace del signore grazie a tutti grazie a tutti